Da oggi tutte le attività commerciali sull'amministrazione e non solo devono scaricare l'applicazione per poter controllare il documento valido per il Green Pass degli avventori. Grazie a questo sistema operativo del Green Pass si potrà accedere in quasi tutti gli eventi sportivi, teatrali e quant'altro. Il Covid purtroppo ha trasformato e ci sta trasformando, cerca di togliere dal circolo il contagio ma allo stesso modo si cerca di avere i mezzi per contrastare e evitare il contagio all'interno delle attività commerciali e anche per quanto riguarda il commercio. La Confcommercio è favorevole anche a questo tipo di azione purché le attività siano e vadano avanti.